La bellezza dei fiori delle piante, l'orrore della guerra nel cuore dell'Europa, si tingerà dei colori della solidarietà di rara pianta, la mostra a mercato del floroviveismo in programma sabato 9 e domenica 10 aprile al giardino Parolini di Bassano. Tra piante rare, arbusti insoliti, rose, bonsai e orchidee, sarà attiva una raccolta fondi presso lo stand della Pro Bassano in favore dei bambini ucraini promossa dalla Croce Rossa italiana UNHCR Unicef. Per ogni donazione di almeno 5 euro si riceverà in omaggio un fiore di carta realizzato dalle figuranti di arti per via.